Buonasera e ben trovati all'edizione del nostro telegiornale i fatti del friuli occidentale in primo piano. In apertura l'influenza che continua a colpire. Sono 5 le persone ricoverate in terapia all'ospedale di Pordenone a causa del virus. L'ultimo caso che riguarda una donna è stato preso in carico oggi dalla struttura sanitaria. Sono 5 le persone ricoverate all'ospedale di Pordenone a causa dell'influenza. Proprio nella giornata di oggi, spiega l'infettivologo Massimo Crapis, è stata portata in terapia intensiva una signora di 52 anni, trapiantata di rene, che ha manifestato un'insufficienza respiratoria dovuto al virus influenzale. La donna si aggiunge ai 4 uomini già in carico alla struttura sanitaria e le condizioni dei quali sono stazionarie. Si tratta di un 60enne non vaccinato affetto da polmonite batterica, un 72enne con un'insufficienza cardiaca, un anziano colpito da altre malattie e un 80enne che era già ricoverato nell'ospedale e la cui attività respiratoria è peggiorata proprio a causa del virus. Si è dunque spostato in avanti nel tempo il picco dell'influenza che nelle previsioni doveva essere già terminato. Ciò dipende, dice Crapis, dalla dinamica della penetrazione virale, che può essere modificata da un semplice cambiamento climatico. Il freddo, infatti, agisce su questo fronte in due modi. Da una parte porta le persone a soggiornare in ambienti più piccoli, favorendo il contagio. Dall'altra, conclude il medico, riduce le capacità meccaniche delle vie respiratorie di resistere all'attacco del virus. Ancora lacrime dopo l'incendio di Pinzano al tagliamento che ha causato la morte di un bambino di 5 anni. Il fratello maggiore, ora indagato per omicidio colposo, ha confessato di essere la causa del rogo. Intanto è partita una vera e propria gara di solidarietà per aiutare la sfortunata famiglia. È un dramma nel dramma quello che la famiglia Bambore di Pinzano al tagliamento sta vivendo dopo l'incendio dell'abitazione che martedì pomeriggio ha ucciso il piccolo Abdul-Lugmanet. Il fratello maggiore del bambino di 5 anni, originario del Burkina Faso, stroncato dal monossido di carbonio, ha confessato ai carabinieri di essere stato la causa del rogo. Il ragazzo di 27 anni, ora indagato per omicidio colposo, ha raccontato in lacrime di aver tentato di accendere una stufa con un liquido accelerante e di aver così innescato accidentalmente l'incendio. Il 27enne è ricoverato all'ospedale di San Daniele per intussocazione e per ustioni, assieme al suo gemello, che si è procurato lesioni agli arti dopo essersi buttato dalla finestra per mettersi in salvo dalle fiamme. Entrambi i giovani hanno affermato di non aver saputo della presenza in casa del piccolo Abdul, il cui corpo sarà sottoposto domani ad autopsia. Intanto è partita una vera e propria gara di solidarietà per dare un aiuto alla sfortunata famiglia. La società operaia di mutuo soccorso di Pinzano ha avviato una raccolta fondi e di vestiti. La risposta è stata talmente alta che la Saon sia interrotto la raccolta del vestiario, data la grande quantità di materiale messo a disposizione dei cittadini. Chi volesse contribuire può fare una donazione sul conto della società operaia del paese, specificando la causale famiglia Bambore. Voltiamo pagina, si è conclusa oggi a Pordenone Fiere la due giorni di Aquafarm e Novel Farm con un incremento del 40% negli ingressi rispetto all'anno scorso. Tanti convegni per fotografare il settore, domani parte Hobby Show, il Salone della Creatività, in programma fino a domenica. Due giorni in fiera a Pordenone per parlare di acquacultura. Durante la rassegna Aquafarm, la mostra convegno internazionale dedicata alle tecnologie, ai prodotti e alle buone pratiche della produzione sostenibile di cibo dall'acqua, sono state affrontate diverse questioni legate al settore in specifici convegni. Uno di questi, al quale hanno partecipato gli assessori regionali, Stefano Zanier e Fabio Scocci Marro, ha affrontato il tema delle risorse, dell'incidenza delle variazioni ambientali e della sicurezza alimentare nelle produzioni di molluschi bivalvi. Noi abbiamo già iniziato con un progetto in collaborazione col Ministero che è proprio partito in questi giorni per quello che riguarda la molluschicoltura, più che altro le vongole, dove abbiamo delle difficoltà. Ecco, in questo caso siamo già partiti con un progetto sperimentale per fare delle attività con la collaborazione del Ministero del Mipaft e quindi parte proprio in questi giorni. L'altra cosa che vorremmo riuscire ad ottenere, siamo già in fase avanzata di trattativa anche col Ministero dell'Ambiente, è fare un monitoraggio serio di quelle che sono le nostre acqua mare, dove gli studi non sono ancora completi o sono ancora in alcuni casi da completare, per definire quali sono le problematiche che oggi ci dobbiamo affrontare sulla difficoltà di accrescimento del prodotto piuttosto che in alcuni casi sulla poca presenza di prodotto, quando in altre realtà questo c'è. Zanier ha fatto anche il punto del settore in regione. Il settore dell'acquacoltura in Friuli Venezia Giulia, che si esplica in diverse realtà, certamente ha delle necessità di poter anche crescere. Crescere sia in termini qualitativi, dove siamo abbastanza bene, ma specialmente in termini quantitativi. E qui dovremmo definire, l'ho appena detto questo all'interno di un altro convegno, delle politiche comuni che mettono assieme la sostenibilità delle attività, con quella che è anche una richiesta sempre più pressante di avere prodotto da acquacoltura, perché è evidente che quello di pesca inizia a soffrire della difficoltà che gli stock marini ormai hanno evidenziato in maniera palese. Buone notizie per Zoppola. I Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia hanno firmato congiuntamente il decreto di autorizzazione del Piano 2018 degli interventi di edilizia scolastica. All'interno di tale piano il comune di Zoppola è risultato beneficiario di un contributo pari a 2.176.000 euro per l'intervento di ristrutturazione straordinaria della scuola primaria Celso Costantini di Castions. Questo va a sommarsi al finanziamento di 750.000 euro già ottenuto per l'adeguamento sismico dell'edificio e per cui presto partiranno i lavori. Con questo ulteriore contributo, spiega il sindaco Francesca Papais, potremo garantire un restyling dell'intero edificio scolastico. Primaria, palestra, scuola dell'infanzia, le margherite e mensa. Realizzando una scuola 2.0 più innovativa, efficiente dal punto di vista energetico e migliore per la qualità dell'ambiente. Il quartiere Pordenonese di San Valentino è in festa. L'omonima associazione sta preparando l'annuale Sagra. Domenica è in programma la Marcia dell'Amore. A giorno di San Valentino, Parco di San Valentino, associazione San Valentino con il presidente Franco Toffolo. Insomma c'è la Sagra in questi giorni. Domenica la Marcia degli Innamorati. Sì, c'è la Sagra in questi giorni. Ci stiamo lavorando da un paio di mesi. Speriamo, forse questa volta è la giornata veramente clou e soprattutto per quanto riguarda l'assù, il tempo è quello che ci teniamo di più. Se il tempo va bene sicuramente ci sarà un grande afflusso di persone. Quante persone pensate di avere? Ma sa, noi diciamo che c'è un giro continuo di persone, ma almeno le 2-3 mila persone non sono tutte assieme, però piano piano le facciamo girare. A che ora si parte? Si parte il mattino con la marcia, la marcia degli innamorati, la marcia dell'amore, proprio qui parte dall'interno del parco e lì speriamo di avere, parliamo di un migliaio di iscritti. Per noi questa è già una buona partenza. E poi ricordiamo anche il vostro impegno sui defibrillatori. Poco tempo fa ne avete donati due alla città. L'impegno sui defibrillatori si c'è da almeno oltre 4 anni, quando abbiamo iniziato con questo qui vicino, il primo che abbiamo installato, con l'aiuto della Friroves Banca abbiamo installato altri tre a Pordenone e prossimamente cominceremo a contorre anche per la periferia. Anche Villa Marchi che ha le nostre spalle è un pochino in gestione da voi? Ma Villa Marchi ci è stata concessa provvisoriamente per spostarci da questa sede che fra poco inizieranno i lavori, gentilmente concessa da Sunny System che l'ha affittata per un periodo di tempo e anche loro ci hanno dato una mano. Significa che le attività che facciamo, che portiamo avanti sono sostenute e soprattutto ci credono. Quante sono le persone che gravitano attorno alla vostra società? Noi siamo, a fine anno avevamo 550 iscritti, già i primi due mesi dell'anno abbiamo già raggiunto 300 iscrizioni. Di conseguenza siamo molto contenti perché le attività vanno dalla marcia, dal ballo, da tantissime attività, le gite sociali, molte, più riverse verso le persone non troppo giovani, ma però ci siamo e siamo molto contenti. Teatro Verdi di Pordenone e Fondazione Friuli fanno squadra per valorizzare sempre più i giovani e i loro talenti. Assieme e in prima fila nell'investire sui giovani e sulla formazione del pubblico, nel creare dei percorsi di lettura della nostra epoca attraverso la letteratura che approda a teatro. Queste le direttrici strategiche della partnership che si è consolidata tra Fondazione Friuli e Teatro Verdi di Pordenone all'insegna delle parole d'ordine, qualità e originalità. A unire le due realtà guidate da Giuseppe Morandini e Giovanni Lessio è l'impegno nel voler investire sui giovani, valorizzandoli, promuovendoli, offrendo loro occasioni di formazione. I progetti educational si rivolgono a ragazzi e bambini che frequentano le scuole del territorio, da quelle dell'infanzia a quelle secondarie di secondo grado e coinvolgono direttamente più di 12.000 persone con 36 iniziative condivise con la Fondazione Friuli. Nell'ambito della valorizzazione dei giovani e dell'alta formazione c'è anche la scelta di mettere in cartellone giovani talenti del territorio nei concerti delle 18, realizzati grazie al supporto della Fondazione Friuli e avvalendosi della nuova convenzione attivata con il Conservatorio Tomadini di Udine. L'innovazione in scena e per il pubblico si sono concretizzate con la nuova rassegna tra letteratura e teatro, performance tra scene e scrittura, tra palco e pagina, avviati lo scorso settembre con Maria Paliato e il suo Una e una notte di Ennio Flaiano, seguito dal debutto nazionale di Ex Chimico, Primo Levi e il suo secondo mestiere, produzione del teatro grazie alla sinergia con Fondazione Friuli, Di e con Sonia Bergamasco. Infine, dopo la replica della Traviata, produzione del Verdi di Trieste, lo scorso ottobre con 412 presenze, prenderà forma nel mese di marzo il percorso dedicato all'opera lirica, con le produzioni legate alle celebri pagine dell'Elisir d'Amore, nelle sue declinazioni Opera Kids per 1.450 bambini e 110 insegnanti delle scuole dell'infanzia e Opera Domani per 6.350 studenti e 510 insegnanti. Il settore educational, nel suo insieme, coinvolgerà 9.732 partecipanti, tra insegnanti e studenti, con 22 repliche di spettacoli, mentre i corsi di formazione coinvolgono 507 docenti accreditati e 27 scuole dell'infanzia per lezioni di canto e musica connesse a Opera Kids. Siamo allo sport, è tutto pronto per la Transcavallo, la gara di sci alpinismo in programma Piancavallo al Pago, da domani a domenica. Conto alla rovescia per la Transcavallo. È in partenza la 36esima edizione della gara di sci alpinismo a squadre, suddivisa in tre tappe. Dal 15 al 17 febbraio si ripeterà la formula già collaudata nella passata stagione, che vedrà gli atleti raggiungere Piancavallo al termine della prima tappa, per notare in hotel e la mattina successiva ripartire alla volta dell'arrivo di Colin Dess. Il terzo giorno si percorreranno le tracce classiche del Guzlon, con attraversamento della Vallazza, con la discesa nella mondiale Val Salatis, chiudendo con il verticale canalino delle placche, che porta sulla vetta del Guzlon con i suoi 50-55 gradi di pendenza. Tutto questo senza nessuno spostamento di auto da parte delle squadre, una sorta di viaggio agonistico ecosostenibile. Le iscrizioni alla tre giorni si sono chiuse con circa un centinaio di team, di cui una ventina di stranieri, in rappresentanza di otto nazioni. Nella starting list spiccano nomi come il nuovo campione italiano di sci alpinismo Robert Antonioli, che correrà con Matteo Eidalin, tra gli altri Michele Boscacci e Davide Magnini. Nella Corsa Rosa è stata confermata la presenza di Alba De Silvestro, che gareggerà con la francese Lorna Bonnel. In abbinata alla competizione si svolgerà per la seconda volta la Transcavallo Classic, una sorta di raduno dove i partecipanti, al massimo 50, saranno accompagnati dalle guide alpine lungo il tragitto dei concorrenti. Si potranno quindi rivivere i momenti che hanno gettato le basi della Transcavallo, quando i pionieri dello sci alpinismo partivano dall'Alpago per raggiungere Piancavallo. Il monte premi previsto è di oltre 22.000 euro, con la parte in cash di 16.000 euro e il resto in premi dati direttamente dalle aziende sponsor. Quest'anno, oltre alla premiazione delle prime dieci squadre al maschile e alle prime cinque al femminile, sarà premiato il podio completo delle squadre miste e pure quello dei master. Era l'ultima notizia per questa sera, dopo di noi, Friul Economy condotto da Massimo Deliva. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone per domani sempre alle 20.45. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie per essere stati con noi e buona serata.